I cosiddetti costruttori della società, docenti, artisti, industriali, agricoltori, indigeni, hanno animato l'incontro con Papa Francesco nel palazzetto dello sport Leon Condu. Canti e testimonianze hanno introdotto il discorso del Pontefice, che anzitutto ha chiarito che un popolo che non mantiene vive le sue preoccupazioni, un popolo che vive nell'inerzia dell'accettazione passiva, è un popolo morto. Per costruire una società più inclusiva, proseguito, è fondamentale la ricerca del dialogo, che sappia riconoscere che la diversità non è solo buona, è necessaria. In questo orizzonte è poi possibile fare qualcosa di concreto per i poveri, non con uno sguardo ideologico che finisce per utilizzarli al servizio di altri interessi politici o personali. Seguendo la traccia delle testimonianze offerte, Papa Bergoglio si è poi rivolto ai giovani, invitandoli a non aver paura nella vita di dare tutto in campo, a compromettersi non solo con le parole, contrastando la crescente mentalità che considera inutile e assurdo aspirare a cose che valgano la pena. Vi chiedo, concluso il Pontefice, di non cedere a un modello economico idolatrico che abbia bisogno di sacrificare vite umane sull'altare del denaro e del profitto. Grazie. Grazie. Grazie.